allora nel forno guardate che c'è torta salata feta e spinaci già quasi pronta ora tiro fuori bellissima doveva consumare perché avevo avuto nel congelatore perché fra cinque giorni comincia nuova offerta nel Lidl cucina greca che mi piace tantissimo questa torta salata ci sono anche soltanto confetta ma mi piace più con spinaci e fetta è molto molto più buona molto comodo quando vai al mare in montagna molto mi piace anche a casa buonissima proprio amici qui vicino mia casa c'è questo negozio che vendono questi vestiti io già da un po che cerco qualche vestitino leggero fino a ginocchia e notato questo qua e poi anche questo azzurro ma vedo che è questo un pochino così abbastanza stretto un po larghino ma stretto non sarò balena capito un po lunghino ma mi serve sono molto esigente perché mi serve un tessuto fine 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 e più possibile al naturale questo qua un pochino design un pochino grosso non mi piace questo più o meno più o meno va bene questi colori così devo entrare e devo misurare devo vedere da vicino il tessuto mi interessa soprattutto è così andiamo al caffè faccio breve collegamento sono molto emozionata vado a scuola guida ecco crisco la guida devo rinnovare patenti c'è l'appuntamento alle 6 c'è l'appuntamento con oculista sono molto preoccupata perché perché un occhio vedo poco si vede meglio oggi sono orribile un occhio vedo meno ma ce l'ho alle 6 c'è l'appuntamento e comunque sono preoccupata speriamo bene che mi danno poterci faccio figlia che pieno di gente qui proprio centro centro nostro nell'ombra si vede meglio oggi c'è vinticello si sta molto molto bene vediamo queste domande che fanno patologie cardiocircolatorie o diabete non ce l'ho io tutto niente per fortuna patologie psichiche no ogni tanto quando nervosa prima di ciclo si sostanze psicoattive questo no sistema nervoso io soffro fame nervosa però il sistema nervoso è altra cosa si malattie apparato urto no patologie visive no uditive no udito a posto molto a posto udito e poi tutte le altre cose davanti al televisore capacità davanti al televisore al treno leggere giornali cinema se vedi cinema o no con fermo con le azioni guardate pasti conversando con qualcuno durante il pasto si o no si posso con conversante con quando mangio con qualcuno si vedo vedo davanti quello che c'è di me alla guida nelle brevi soste di traffico si o no ecco qua firma comunque ci sono tante domande e ci sono anche anche qui no qui non c'è niente comunque speriamo bene sono molto emozionata ecco la foto questa foto hanno presa sto aspettando fila c'è cinque persone prima di me medico da da sei fino sette prende due volte la settimana pulista e questo nero io ho coperto nome cognome così non saprete mio cognome e forse anche nome c'è fila io aspetto ecco va bene questa foto non ho fatto nuova foto ok ci sentiamo più avanti